buongiorno a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata un nuovo appuntamento con focus periferie e siamo qui come tutti i focus periferie che si rispettano insieme a valta che rubini da consulta periferie milano buongiorno valter buongiorno ben ritrovati a questo 181esima puntata di focus periferie con le quali stiamo appunto focalizzando l'attenzione sulle periferie attraverso il racconto la testimonianza di quella che l'attività continuativa di tantissimi soggetti che operano sul territorio periferico ma che hanno anche una significativa valenza cittadina l'ospite che abbiamo oggi chi ci ha portato oggi chi ci ha portato celestino belvedere che vice presidente vicario dello sport club genova 1913 e parliamo di due ruote due ruote non motorizzate ma motorizzate umano giusto la bicicletta buongiorno celestino a tutti e grazie per per l'invito grazie a te a cessione essere venuto grazie anche assolutamente con la divisa ufficiale del genova 1913 società di ciclismo sporting club che esiste a milano dal 1913 immagino cioè quindi su quello vedi lo spiegano su tutto e se venisse il dubbio dire ma perché il genova dietro c'è scritto anche milano sulla sulla maglietta quindi ci spiegate tutto basta guardarli un attimo e si capisce tutto questione annosa sul sport club genova 1913 ovviamente all'origine 1913 è l'anno di fondazione quindi noi abbiamo festeggiato 111 anni quest'anno e ovviamente come dire siamo orgogliosi che dopo 111 anni siamo ancora una realtà molto importante dal punto di vista motoriale non solo a milano ma credo anche in lombardia è insomma da porta genova la strada si è allungata o stupore la bicicletta di porto ovunque no l'origine ovviamente genova perché appunto è stato il club è stato fondato nel 1913 in via olona insomma in zona porta genova per chi conosce milano dopo si è trasferita per lunghissimi anni in anzi no in realtà è stata fondata in via vigevano a ok poi è stata per una trentina di anni in via olona vigevano è proprio il cuore di porta genova la cosa curiosa insomma noi quest'anno appunto abbiamo rifatto le le divise e abbiamo messo il duomo stilizzato con la scritta milan per identificarci anche perché comunque una delle cose classiche che succedeva anche quando avevamo la divisa con scritto sport club genova milano ci chiedevano sempre se fossimo di genova se eravate fan di genova a milano quindi insomma sempre un po facevano pubblicità gratuita ai genovesi che è il massimo è il massimo diciamo che volendoci collegare a genova noi in occasione del tragico evento del crollo del ponte morandi quindi nel 2018 noi due mesi dopo abbiamo organizzato una pedalata partendo dalla stazione di porta genova per arrivare al ponte morandi proprio per come dire dare continuità anche questa questo collegamento virtuale insomma che c'è sempre stato tra il nostro nome è la città di genova realtà appunto valte più che centenaria come tante altre che avete fatto conoscere la città e che esistono ancora e fanno tanto ancora per la città esattamente questo il tema nel senso che in questo ciclo di focus periferie di questo periodo stiamo appunto presentando alla città tutta quella realtà che erano preesistenti al 1923 cioè quando la città era molto più piccola e quindi rimaneva dai 9 chilometri quadrati del 1873 72 73 poi con l'aggregazione del comune di corpi santi diventa da 8 chilometri quadrati a 76 chilometri quadrati e si estende molto più nel 1923 quando aggrega i cosiddetti comuni con termini che quindi possiamo dire crescenzago gorla lambrate vigentino piuttosto che chiaravalle milanese dall'altra parte musoco trenno baggio ecco questo riguarda anche questi 11 comuni e queste realtà hanno esattamente vissuto la trasformazione della milano e quindi anche in questo caso la trasformazione del ciclismo per esempio perché una delle c'è una un'opera interessante fatta sul sul centenario dello sport club genova 1913 realizzata da certosinamente da gabriele pagani e dove riporta appunto la storia di questo di questo importante sodalizio sportivo che tra i suoi membri ha avuto rodoni che è stato poi il presidente della federazione internazionale di ciclismo quindi milano e lo sport club genova 1913 in particolare non è un elemento secondario ma è stato sempre a milano un elemento primario e poi anche persone che hanno vinto la sei giorni tanto per intenderci sei giorni a milano una delle ultime delle quali è è stata nel vecchio anzi nel passport che poi fu purtroppo neutralizzato neutralizzato dalla nevicata perché la nevicata non è che tiro giù tutto il passport ma il peso della neve probabilmente anche il fatto di non aver acceso i riscaldamenti poi esattamente poi anche l'acqua buttata sopra per far sciogliere la neve insomma ci sono state una serie di di concause che hanno appunto lesionato un tirante della della copertura era un palazzo dello sport che era è stato copiato anche in altri in altri parti del mondo e da quel momento lì non ci fu più e appunto una delle delle sei giorni quindi stiamo parlando del prima del 1985 mi ricordo che venne svolta lì perché appunto ero lì a vederla quindi testimoni diretto da questo punto di vista ma è il libro appunto del del centenario che ha realizzato Gabriele Pagani è proprio ricchissimo di aneddoti di storia anche di un comunicato ai tempi quindi più di cento anni fa per certi aspetti dove i ciclisti di allora i ciclisti era inibito di viaggiare a Milano in particolare di notte anche se avevano l'illuminazione insomma c'era un po' non è cambiato nulla diciamo che non è sempre stata vita semplice ecco vita semplice io mi permetto di fare un piccolo parentesi attuale no perché è importantissimo che i ciclisti si facciano vedere e non vadano anche contro mano come mi è capitato una sera di trovare un ciclista contro mano che insomma un po' di preoccupazione quindi anche dal punto di vista della regia della città pubblica quindi comune eccetera è chiaro che noi dobbiamo far sì che i mezzi che si muovono nella città abbiano quel minimo di rispetto delle regole che quando si viaggia sicuramente devono essere illuminati la notte e questo è un compito una responsabilità di chi guida sicuramente questi questi velocipiti mettiamolo in questa maniera ma anche chi deve controllare perché altrimenti al far west sì e poi soprattutto ricordiamo sempre che la città potrebbe essere tranquillamente divisa equamente per tutti quanti pedoni da una parte macchine dall'altra ma i ciclisti giustamente che hanno bisogno del loro spazio ma soprattutto perché poi la bicicletta è tutto ma vuol dire tante cose perché appunto può essere la bicicletta che utilizzo per andare al lavoro tutti i giorni può essere la bicicletta che uso invece la domenica e i miei figli per andare a fare un giro al parco può essere la bicicletta che invece utilizzo per livello sportivo no che insomma quindi sono mondi che hanno in comune lo stesso mezzo che poi insomma anche già lì chiamano lo stesso mezzo voglio vedere vorrei vedere la bici di Celestino confronto alla mia no cioè appunto un po' diverso è immagino vogliamo essere voglio dire se vogliamo fare i sofisticati ovviamente chi va in bicicletta in città si chiama ciclista perché usa la bicicletta ma insomma il concetto di ciclista è come se noi fossimo chiamati piloti perché vogliamo una macchina è ovvio che c'è tanta purtroppo c'è tanta indisciplina soprattutto in città però voglio dire vale per tutti non vale soltanto per chi va in bicicletta va per chi va in monopattino vale per chi usa la macchina la mette in quarta in quinta per i pedoni anche c'è gente che cammina in mezzo alla strada quelle poche ciclabili che ci sono a milano poche peraltro io uscendo in bicicletta una ciclabile qua in primaticcio mi hanno tagliato la strada mi hanno fatto cadere se ne sono pure andati insomma quindi diventano anche pericolose però è chiaro che insomma è una questione soprattutto di cultura e di rispetto chi sono invece quelli che possono freggiarsi del titolo di ciclisti interno del Genova invece il Genova ha una tradizione ciclistica appunto ultracentenaria prima volta che parlava di Adriano Rodoni che è stato presidente del Genova per circa 20 anni è stato presidente della federazione ciclistica italiana ed è stato presidente dell'Ussiai che è appunto la federazione ciclistica mondiale quindi partendo dal Genova 1913 insomma quindi Rodoni è stato un personaggio sicuramente di grande spessore e ha portato il nome e la cultura del Genova in giro per il mondo banalmente oggi come oggi il presidente della federazione ciclista italiana Cordiano Dagnoni è figlio di Mario Dagnoni che è stato un socio tesserato e corridore del Genova insomma tra gli atleti importanti del Genova c'è sicuramente Alfredo Binda il nome più famoso ma ce ne sono tanti altri insomma il Genova ha vinto tre campioni abbiamo avuto come società sportiva genica tre campioni del mondo due campioni olimpici un campione d'Europa il Genova ha vinto diverse gare nazionali Italia Lombardia e quindi voglio dire insomma ha una storia che purtroppo si è in qualche modo interrotta negli anni 60 anche perché il ciclismo attuale è un ciclismo totalmente diverso è un ciclismo molto costoso quindi le piccole società come noi ovviamente non hanno più nessuna possibilità oggi so che ti stiamo sequestrando molto probabilmente la tappa non è ancora partita parte più tardi quindi però insomma per voi questi giorni sono giorni è natale diciamo che noi la mattina usciamo in bicicletta e il pomeriggio vediamo le tappe non sono di quelli che in bicicletta va a vedere la tappa quando passa da queste parti l'anno scorso per esempio sono andato in provincia di Avellino che è la mia zona di origine perché sono passate due giorni le tappe proprio nel mio paese quindi mi ho approfittato da Milano quest'anno non si riesce a vedere bene però non passa facilmente il ciclismo a Milano banalmente e voglio dire da alcuni anni purtroppo ecco allora c'è destino apriamo una parola scusami Walter se prendiamo un attimo questa è la mia battaglia col sindaco proprio ce la dico proprio apertamente perché non arriva più il giro d'Italia a Milano da troppi anni guarda io ovviamente non sono in grado di darti una risposta no lo so ma c'è un insider so che comunque sicuramente è un problema di costi di persone di risorse da dover mettere a disposizione sinceramente è strano perché il giro è sempre quantomeno arrivato a Milano insomma quindi allora l'altro problema secondo me è proprio questo insomma purtroppo in Italia i giornali anche sportivi parlano di tutto tranne che di ciclismo questo è paradossale perché poi appunto la gazzetta dello sport che è quella che organizza il giro d'Italia gli dedica poche pagine credo che in prima pagina ci sia il giro d'Italia in questi giorni se noi facciamo un paragonico con quello che succede col Tour de France la copertura mediatica ma anche della Welt di Spagna hanno delle coperture mediatiche totalmente diverse a Milano perché non si fa? allora voglio fare una battuta ma insomma prendetela come tale l'unica gara importante che è stata organizzata a Milano di ciclismo l'ha organizzata il Genova quest'anno insomma abbiamo fatto la nostra randonnée partendo dal velodromo di Gorelli che era considerato il tempio del ciclismo italiano e siamo riusciti quest'anno a farla partire con quante difficoltà ecco e qui si è un altro tema però Walter che se anche c'è la buona volontà se anche trovi le risorse e le persone la prova di fare non è detto che poi tu ce la possa fare in una città come Milano tra l'altro ovviamente lo spazio ci viene concesso a titolo oneroso insomma quindi non è gratuito però voglio dire questa non è polemica è una considerazione oggettiva a Milano volendo organizzare un qualche cosa che porti delle persone in bicicletta noi eravamo 300 quest'anno insomma quindi non è proprio non sono numeri eclatanti ma insomma sono numeri anche importanti per questa etnologia di manifestazioni ma ci rimane comunque la Milano Sanremo sì è partita l'anno scorso da Biategras e quest'anno da Pavia ma c'è anche la Milano Torino che è partita davvero ecco ci sono fatto capire Walter ma perché è la grande Milano Pavia? noi continuiamo a dire che Milano diciamo così ma Milano ingloberà anche Pavia nella città metropolitana ah vedi il ciclismo vede avanti arriva fino a Lugano c'è il giro di Svizzera forse c'è il giro di Svizzera che deve essere cittadina qualche settimana no ma ritorniamo un attimino su un punto scusa ma passato il ciclismo appunto mi prendo bene anch'io cioè il tema di questa città dato che stiamo parlando di ciclismo che va a due, tre, quattro velocità e quindi anche che continua a avere delle regole uguali per tutti regole uguali per differenti quindi noi utilizziamo le medesime regole per mettere in locazione negli spazi commerciali in Galleria Vittorio Emanuele e utilizziamo la stessa logica con prezzi diversi ma la stessa logica anche per l'associazione che promuove l'attività sportiva quindi facendo questo è chiaro che chi fa iniziative economiche trova anche una sua sponda economica ma anche chi fa iniziative economiche poi non è che va in periferia perché in periferia trovo una situazione diversa la periferia è diversa da ogni parte quindi non è che possiamo dire periferia è così periferia bisogna conoscerla per quello abbiamo mappato con il centro studi con Milano con il centro studi periferie di consulta periferie Milano 163 toponimi diversi perché 200 metri più in là cambia la situazione ma questo vuol dire anche guardare la città da parte di chi dei nostri amministratori non di chi amministra sono i nostri amministratori perché non è che vengono da Marte avere una concezione della città e avere una particolare visione delle cose quindi anche l'organizzazione dell'amministrazione comunale come anche deve avere delle regole adeguate al funzionamento della città così deve avere anche un'organizzazione adeguata all'amministrazione della città perché se noi continuiamo ad avere un'amministrazione che come logica è costruita quando Milano 150 anni fa era grande 8 km quadrati e il sindaco faceva il suo giro in bicicletta magari oggi da parte di sala in bicicletta oggi da parte dei cittadini pretendere che il sindaco si occupi della buca sotto casa è una cosa che non si adesso se sala deve fare il giro di Milano deve fare più di 100 km quindi deve essere allenato allora è impraticabile nello stesso tempo anche chi amministra la città deve rendersi conto che se la organizza come quando era 8 km quadrati non ce la farà mai per quello c'è il tema del decentramento amministrativo non tanto per fare qualcosa ai municipi ma perché un'organizzazione strutturata territorialmente serve alla città altrimenti i municipi rimangono un ente lì così che vale lo 0,3% sul complesso delle attività cittadine capite che noi abbiamo zone che sono grandi come Brescia come Popolazione come Bergamo le due più grandi città dopo Milano e da noi non sono amministrate questo è il tema e perdiamo un mucchio di risorse anche per cui anche le risorse che vogliono fare qualcosa poi devono inerbicarsi in questo percorso burocratico amministrativo dove noi dobbiamo coniugare questa diciamo così dalla dallo scenario politico sociale intenzionale noi dobbiamo andare sul politico amministrativo abbiamo degli intendimenti benissimo bisogna far sì che le regole corrispondano agli intendimenti se no gli dico bravi fai il volontariato e dopodiché uno non riesce a farlo capite che non funziona il meccanismo nonostante questo sistema le cose le fate le fate tante tutto l'anno e con tanti che vi seguono noi abbiamo ancora oggi un numero importante di soci insomma siamo oltre che la società più antica di Milano dopo Milan Inter e forse la Cus Pro Patria abbiamo comunque 140 soci iscritti insomma quindi siamo una realtà ancora viva e con tanti interessi diciamo che oltre alla bicicletta per noi come Genova non esiste soltanto la bicicletta noi siamo stati lo dicevo prima il gemellaggio con Genova per il crollo del Ponte Morandi ma noi abbiamo fatto tante facciamo tante iniziative di tipo solidale insomma noi dopo il terremoto nelle Marche facemmo una raccolta fondi da destinare a una società ciclistica delle Marche appunto abbiamo fatto questa iniziativa per Genova abbiamo accompagnato dei ragazzi del Believe che sono ragazzi che hanno delle disabilità piuttosto che malattie importanti li abbiamo accompagnati da Milano a Cortina abbiamo fatto delle iniziative per la fondazione Michele Scarponi che sapete tutti insomma il ciclista che fu investito mentre si allenava abbiamo fatto delle manifestazioni abbiamo organizzato un convegno importante con il Policlinico di Milano sullo sport quello che è lo sport e come dire la prevenzione insomma quindi abbiamo accompagnato abbiamo partecipato proprio il mese scorso alla Ride von Samba accompagnando degli atleti paraolimpici palestinesi da Milano a Roma il 9 di giugno ci sarà la Ride for Good un'iniziativa che serve a raccogliere fondi per il reparto di oncologia pediatrica dell'Istituto Nazionale Tumore di Milano quindi diciamo questi sono un po' al di là dell'attività specifica di ciclismo insomma questo è un po' quello che rientra nel nostro DNA insomma forse se siete qui da 111 anni non è solo appunto perché vi trovate a fare una bella scampagnata o perché andate a fare la gara di chi arriva primo al Sacromonte suovarese ma perché appunto insomma fate tanto per il territorio e forse anche questo è il bello di avere in realtà che nel territorio fanno tanto per il territorio e con il territorio perché poi non lo fate diciamo calando dall'alto chiaramente noi agiamo in questo contesto voglio dire insomma la nostra sede storica attuale in via Marostica presso il club Cinque Pioppi insomma il club Temistico anche se attualmente lo stanno ristrutturando siamo ospiti provvisori qua in vicino al mare culturale insomma quindi siamo proprio qua in zona però diciamo nonostante tutte le difficoltà noi cerchiamo comunque di essere presenti teniamoceli qua non facciamo di tornare in detto via Marostica teniamoceli qua in zona che ci fa piacere ma chiaramente noi il nostro obiettivo è anche quello di interloquire in maniera efficace con l'amministrazione siamo riusciti ad avere comunque dei contatti diretti col sindaco con Martino Riva l'assessore allo sport insomma quindi diciamo che il nostro cerchiamo di farlo insomma ecco poi come società siamo stati comunque anche insegnati dell'ambrogino d'oro abbiamo la medaglia d'oro al merito sportivo del CONI abbiamo il diploma di società storica conferito dalla sindaco Moratti e quella delle società ultracentenarie che insomma ci è stata conferita qualche mese fa appunto dalla presidenza del Consiglio Comunale di Milano insomma quindi diciamo che tutto sommato nel nostro piccolo a livello sportivo ovviamente non possiamo più replicare quelli che sono stati i successi che vi dicevo prima insomma però siamo campioni regionali da 4-5 anni insomma scusa capito che eravate abituati alle Olimpiadi al Tour de France al Giro d'Italia però insomma nel senso quattro anni campionato regionale randonnée della Federazione Ciclistica italiana l'anno scorso siamo stati oltre che campioni regionali della Federazione Ciclistica campioni regionali anzi nazionali dell'ARI che è un'altra associazione sul Gravel insomma quindi diciamo il nostro nel nostro piccolo e con le nostre forze capisci che appunto sono abituati a portarsi medaglie d'oro dalle varie Olimpiadi insomma diciamo che i risultati ci sono ancora assolutamente e poi chissà mai che per un po' qualche olimpionico passa ancora mai succede mai dire mai in questo caso giusto Walter tu che hai avuto la carriera sportiva alle spalle carriera sportiva però sono stato capito di Milano di baseball quando ero giovane quindi insomma qualcosa la stella del baseball l'abbiamo qui per chi non lo sapesse la stella mancata del baseball va bene insomma ma ecco quello secondo me che è importante è che noi decliniamo operativamente quindi con regole anche adeguate la possibilità a tutte queste espressioni che poi si arrabattano un pochettino nella dinamica per diciamo così combinare qualcosa ma è un'espressione professionalmente si muovono perché per fare queste cose qui bisogna essere non pagati tra virgolette ma bisogna fare le cose professionali quindi gente che è capace noi queste capacità che riconosciamo anche con tutte le poleniche che ci sono tutti gli anni anche con gli ambrogini allora abbiamo tutte queste capacità che vengono riconosciute poi a rivederci grazie invece queste capacità dovrebbero essere messe a fattor comune esattamente dalla comunità milanese che trova le sue espressioni organizzative nel consiglio comunale nel sindaco eccetera allora tutti questi ambrogini che ci sono dato che ne abbiamo uno qui presente ma perché non li mettiamo intorno a un tavolo ma in maniera strutturata poi con modalità non sarà l'unico ambrogino sportivo che è stato dato quindi perché queste realtà non vengono appunto giustamente richiamate quando c'è da pensare lo sport in città ad esempio esattamente ma poi hanno anche tutta una serie di ricadute naturalmente perché altrimenti noi andiamo avanti a spinte contrapposte della serie chi grida di più la mucca è sua per tradurlo in italiano chi usa più se la vacca è sua ma non funziona in questa maniera perché a questo punto chi è che vincono sempre quelli forti del momento invece noi abbiamo un'estensione cittadina non grandissima che è molto articolata perché noi abbiamo il centro storico ma poi abbiamo un'articolazione di oltre 70 antichi borghi abbiamo nuovi quartieri abbiamo vaste aree agricole vaste aree a parco ecco queste cose qui hanno su anche un milione e quattrocentomila residenti e poi parliamo di quelli che vengono a usare un pochettino usare diciamo così anche ad arricchire da chi usare e quindi chi viene lavora ma anche chi viene a studiare noi abbiamo circa 70.000 studenti fuori sede e quindi vengono a Milano ecco tutte queste ricchezze vanno messe a fattore comune altrimenti poi noi crediamo di risolvere un problema diamo il tetto agli studenti e intanto abbiamo 10.000 abitazioni non utilizzate capite la contraddizione infatti che va ben oltre quel concetto di partecipazione è un discorso di mettersi insieme intorno a un tavolo tutti quanti ci vuole la progettazione partecipata dal basso che si coniuga con quella dall'alto però se non c'è una progettazione partecipata dal basso saranno sempre cose calate dall'alto e funzionano come funzionano che possono andare bene o no dipende ma diciamo che tengono conto solamente tra virgolette del centro o centro economico o centro storico ma non tengono conto della complessità della città che è la stragrande maggioranza diciamo sempre l'80% della città è tecnicamente periferia è tecnicamente periferia dal 1923 ecco quindi pensate grazie mille Celestino grazie a stare con noi e ti lasciamo alla tappa di oggi che parte che ora mezzogiorno parte più o meno la tappa notte io la vedo dalle due in avanti ah beh sicuramente appunto la mattina cerco di uscire in bicicletta stamattina salto stamattina niente ma non sei venuto qua in bicicletta no non sei venuto qua in bici ok quindi stamattina ti hai fatto saltare stamattina mi hai fatto saltare a lungo cosa devi oggi avevo un centinaia di ghiaccia ecco era a lungo l'abbiamo fatto saltare tanto per te è in 100 km quindi non la scampagnatella ma questo qui non sono come se io devo andare allo Stato di San Siro più o meno è che ne ho fatto i 151 ecco capito c'è la stessa mattina che io ci metto in bicicletta da qua allo Stato di San Siro che sono un chilometro ai 100 metri lui ci mette per fare i primi 90 km più o meno non sa girare comunque no l'ultima cosa voglio dire noi abbiamo un sito ovviamente www.geneva1913.it chiunque vuole come dire prendere e vedere chi siamo cosa facciamo la nostra storia tutte le informazioni ci sono sono tutte le informazioni il nostro calendario sociale quindi ci siete anche sui social ci siete anche sui social siamo sui social sia su facebook che su instagram per cui siamo siamo presenti ovunque anche su strada perfetto c'è anche un libro comunque chi vuole approfondire maggiormente appunto cuore e bicicletta 200 e rotte pagine di Gabriele Pagani che c'è da capire e da leggere la storia di Milano proprio attraverso anche questa particolarità grazie mille Walter Walter Cherubini consulta periferia Milano grazie ci vediamo settimana prossima ancora qui con Focus Periferia grazie anche a voi che ci avete seguito buona giornata arrivederci a presto e grazie